Buongiorno a tutti, mi chiamo Marco Cristanini e sono il curatore del Museo di Storia dell'Informatica presso il Dipartimento di Informatica dell'Università di Verona. Durante il mio intervento ho raccontato quella che è la missione del museo, ossia l'ampia diffusione della cultura scientifica. Quindi in un ambiente in cui si guarda il futuro con la ricerca c'è un museo che guarda il passato e che vuole configurarsi come un antidoto contro la perdita di prospettiva della memoria. Grazie a tutti. Grazie a tutti.